... Contrasto riuscito, palla che rotola via. Ha un'autostrada a disposizione, va solo verso la porta, palla che viene rilanciata in avanti. Osillo. Suma così, un'occasione importante per il pareggio. Una grande opportunità sul piede, ma non ha saputo sfruttarla. Si avvicina all'area. Attenzione al tiro. Mangiukic, il gol di Mangiukic. È arrivato un gol, proprio quando meno ce l'ho aspettavamo. Il portiere si era distinto per una serie di ottimi interventi, ma alla fine è dovuto capitolare. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Hanno pareggiato, dunque, uno a uno. Suarez. Dani Alba. Osillo. Palla di nuovo per Osillo. La gira bene. Non ferma il gioco l'arbitro. È dato il vantaggio. Osillo. Mangiukic. Sanchez. Quello molto fisico per il possesso di palla. Kagawa. Palla girata sulla fascia. Palla lunga per Mangiukic. Cristiano Ronaldo. Occhio al suo movimento. Ottima lettura difensiva. Prova a sorprenderlo. Attenzione, la palla è lì. Kagawa. E il pallone se ne va via. E il pallone se ne va via. La deviazione è il pallone che finisce fuori. Carlos Sanchez. Mancano pochi minuti. Tutto può cambiare. È un finale intensissimo. Apre il gioco. Sanchez. Cerca un angolo di passaggio lì a destra. Osillo. Grandissima lettura difensiva. Gerard. Debussy. Mangiukic. Ottimo tiki-taka. Ecco il tiro. Si immola il difensore. Grande intervento per liberare l'area. Ed è il rete. Ed è un pallone tantissimo. Questa rete conferma le sue eccezionali qualità. vede la porta come fa chiaro. Non ci ha pensato due volte per tirare da quella distanza. Scaricato in rete una portata lucidiana. Aveva spazio davanti a sé. Non ci ha pensato. E forse con un giocatore così bisogna andare sempre molto attenti nella marca. Grazie. 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 Grazie.